Allora il mio pianeta preferito attualmente è questo innanzitutto perché penso che sia molto bello e poi perché non ho modo di andare su altra insomma visto da lontano mi sembra che la luna sia abbastanza bella però pare che sia arida e non c'è l'inter poi per vedere insomma è un po' dura. Pianeti che mi piacerebbe visitare e beh Marte, Marte sarebbe interessante ma diciamo che quando sarò vecchio molto vecchio 95 100 anche 120 anni mi piacerebbe essere messo su una bella astronave che andasse verso Marte in modo tale che o muoio sull'astronave o muoio su Marte. Questo film potrebbe essere adatto per un pubblico di alieni se esistessero. Potrebbe essere adatto per un pubblico di persone che vogliono andare a assistere a un film comico ma anche un po' fantascientifico. Io sono appassionato di fantascienza e di film comico per cui potrebbe essere adatto a un pubblico di me. A me, a te e a tutti. È un film per tutti perché sì c'è qualche parolina forte qui e là però scena di sesso zero, droga zero, c'è solo questo alieno che inizialmente sembra brutto ma alla fine viene fuori che è bello dentro. Per cui è un film adatto per cui è un film adatto a tutti. Beh ce ne sono veramente tanti. Uno che mi ha fatto molto ridere è per esempio quando Paul parla con Spielberg oppure quando Paul passeggia travestito da cowboy accompagnato da questi due attori molto simpatici inglesi. Quindi è un cowboy nano praticamente. Oppure quella in cui ridà la vita a un uccello morto che sembra una frase porno ma non lo è e poi se lo mangia. Beh è una scena particolare. Non puoi dire che non sia particolare. Uno che si mangia un uccello vivo che era appena morto.